Ciao ragazzi, oggi è giovedì, 8, in Italia è uscita la rivista Fight, ringrazio di cuore Sandro Ceccarini e Dimitri Molini che mi hanno dato la possibilità non solo alla rivista molto conosciuta Fight ma anche perché hanno dato la copertina, quindi sono veramente contento penso sia la prima rivista in Italia che mi dà tutto questo spazio. C'è un'intervista esclusiva su tutto il nostro progetto che facciamo alla Legionarius League e sul prossimo match e su quello che farò in Italia e all'estero. Oggi qua c'è il diluvio, oggi diluvia, oggi niente, niente, quindi posso... Raga, envelamentate, entrerò bianco, cadaverico come tutti i miei incontri. E noi che cazzo ci prega del sole, il sole famolo via l'altri. Quindi niente, voglio ringraziare Sandro e Dimitri di questa possibilità, rivista Fight dove io già seguivo prima e fare la sport di combattimento, poi ultimamente stanno parlando sempre di più dell'MMA e quindi ci sto a pulire in copertina, quindi ragazzi dategli dentro. Ho trovato altre persone, oggi ho trovato altre persone all'America Top Team che hanno fatto il video Forza Italia, ormai è una moda qua a America Top Team, prima dicono Forza Italia e poi mi salutano, però sono contento. Ragazzi, scusate se non posso far vedere, gli allenamenti li stiamo registrando, c'è un documentario che tutti sanno che uscirà, si pensa, per settembre, però levato quello sto registrando i video degli allenamenti e dello sparring, però l'America Top Team è già come con Rivera, ma mi ha obbligato a non pubblicare, logicamente capite voi il fatto, però dopo il match posso farlo tranquillamente, quindi non pensate che le persone che stanno, cioè che sono, si sono registrate al diario del legionario, quindi al Gold Club vedono i video e voi no, quindi no, lì sono video tecniche, quindi di allenamento, altre cose no, di quello che sto facendo adesso, ma sono tecniche di preparazione fisica e lotta a terra, lotta in piedi, quindi sono un altro tipo di cosa quella, però vi prometto che dopo il match rivedrete tutta la preparazione che ho fatto qui all'America Top Team e a Roma alla palestra Victory, quindi un saluto e come sempre ormai basta, non è più alessiozagara.tv perché tanto mi seguite, Forza Italia! Dai cazzo, dai cazzo! Reddy, Galles Italia, sabato, io muovo il streaming da qua, Forza Italia, Forza Italia!